buonasera buonasera a tutti buona pasquetta scommetto che non vi aspettavate di vedere questo video oggi quei due video così uno di seguito all'altro ma diciamo che ho sentito il dovere di farlo perché sono uscite le primissime anticipazioni del file 1052 non mi sbilancerò oltre non dirò grandi cose ecco perché appunto sono solamente primissimi riassunti non ci sono neanche le immagini eccetera non mi concentro neanche sul caso ma dirò solo se diciamo la cosa essenziale altri non è che il collegamento che c'è tra che ieri diciamo avevamo lasciato in sospeso tra aneda koji tra il caso di aneda koji e amuro appunto ok amuro raccoglie appunto avevamo visto dalla tasca della maestra il pezzo dello scioghi e che collegamento c'è e poi dopo a fine a fine quando fino al video farò una proposta per un futuro video su questo canale allora il caso va avanti ripeto non vi voglio rivelare gli sviluppi perché qua facciamo principalmente spoiler per quello che riguarda la trama succede che parlando diciamo disinvoltamente con il collega amuro amuro cita il caso di aneda koji e lo cita come un caso irrisolto fin dai tempi in cui frequentava l'addestramento per entrare appunto nella nel corpo appunto la polizia segreta e la pubblica sicurezza eccetera eccetera già all'epoca era un caso irrisolto e lui aveva aveva saputo di questo pezzo dello scioghi che era un pezzo è un pezzo che era diciamo mancante dalla scena del delitto in che senso nel senso che era il pezzo dello scioghi aveva un valore molto importante per per aneda koji perché era una sorta di porta fortuna dal momento che era il pezzo con cui aveva vinto per la prima volta contro il suo maestro utilizzando tra l'altro come ultimo come ultimo pezzo da muovere e quindi è considerato un porta fortuna ed è un oggetto estremamente importante e essendo un oggetto di tale appunto importanza non è possibile che non essendo sulla scena del delitto non era possibile che se i genitori appunto non se la famiglia e la vittima non l'ha preso allora vuol dire che per forza era un oggetto che doveva essere sulla scena del delitto e doveva poi averlo preso il colpevole e quindi a muro comincia a sospettare che all'interno appunto di quella l'allevamento ci sia l'omicida l'assassino del caso di aneda koji e qui tutto sembrerebbe appunto supporre che ovviamente sia come sempre o a casa appunto perché lei è lei che aveva il tessere dello shogi allora che tra i tre sospetti di room o a casa sia quella che ha un legame più diretto con aneda koji io partiamo da una premessa io penso che il caso di aneda koji sia la chiave attorno a cui ruota tutta la saga di room tutta perché tutti i personaggi in un modo o nell'altro hanno un legame con il caso di aneda koji anche la stessa anche la stessa sera e anche la stessa mary non diciamo un legame non nel senso come potrebbe averlo roomy però comunque anche loro parlano e dicono di conoscere il caso di aneda koji così come anche e quindi tutti ben o male sono coinvolti è il caso che ha fatto avvicinare a kai ha fatto entrare a kai nell'fbi lo dice espressamente dice che suo padre stava indagando sul caso di aneda koji ed è il caso appunto che lo ha spinto ad entrare nell'fbi quindi è un caso estremamente importante e che tra tutti i personaggi roomy sia quella che ha un legame più stretto è chiaro è evidente perché in un flashback se vi ricordate nel caso della raccolta appunto mi pare che sia il file billet 33 o 1034 della raccolta delle piante selvatiche si vede a un certo punto roomy che dice che in un flashback vede proprio aneda koji che le dice parla di un alfiere appunto con cui può aver fatto una mossa giusta eccetera eccetera e dice mi hai preso per uno stupido pensi che io possa possa morire eccetera e lei lo chiama addirittura sciocco ok quindi quasi che ci fosse un legame molto profondo tra i due ok quindi come se appunto lo conoscesse personalmente io ritengo che come ho già detto non sia troppo facile dire che poiché appunto è l'unica persona che può essere coinvolta che roomy sia appunto abbia ucciso aneda koji e che quindi sia room io ritengo che roomy sia sicuramente coinvolta nell'omicidio room sicuramente era lì sulla scena del delitto io credo che lei abbia preso credo che lei fosse legata sentimentalmente ad aneda koji quasi come se fosse la ragazza o la sorella anche magari comunque c'è un legame molto forte ed era sicuramente sulla scena del delitto e credo che abbia avuto anche possa aver avuto una collutazione anche con room perché nel caso dove si vede che lei fa vedere la lista davanti allo schermo la lista delle persone a cui è stato somministrato la PTX si vede che se vi ricordate bene appunto ha diversi segni diversi diversi tagli eccetera e poi ripeto il resto rimane un mistero come si è riuscita a sopravvivere potrebbe essere stata lei come vi dicevo secondo me lei è la guardia del corpo di Amanda Hawks e quindi potrebbe essere entrata nella stanza di aneda koji diciamo in segreto per incontrarsi con il suo ragazzo e poi averlo visto morto e aver visto il il colpevole che in quel momento lì stava uscendo dopo aver ucciso il suo ragazzo o appunto comunque aneda koji se non è ragazzo ripeto comunque aneda koji e possa aver avuto una colludazione con rum e sia poi dopo scappata e abbia preso constatando che insomma era morto abbia preso l'oggetto a cui era più legato per portare avanti appunto il ricordo di aneda koji non è un caso e quel pezzo a cui era più legato appunto questo questa tessera dello shogi questo pezzo qua che è aveva una grandissima importanza per lui quindi secondo me io qua intravedo un legame sentimentale molto forte il fatto che lei abbia proprio l'oggetto a cui aneda koji teneva di più quindi questo è quello che credo io poi che lei se vi ricordate bene poi si vede anche si sa Conan subito dice che c'è una persona che sta periodicamente mettendo pubblicando casi sul forum relativi al caso di aneda koji e quella secondo me è proprio lei poi perché abbia la lista della ptx che nessuno praticamente ce l'abbia questo cioè nessuno ce l'ha qui questo è ancora un mistero questo rimane chi poi dopo lei sia veramente che ruolo abbia questo è sicuramente il mistero più grande come faccio avere accesso a tutte quelle informazioni che anche lei sia una della polizia segreta giapponese eccetera eccetera a me sembra strano perché sarebbero veramente troppi secondo me lei ha un ruolo terzi nel senso che non è propriamente né un mib ma neanche un dalla parte di Amuro Akai eccetera eccetera però è difficile da effettivamente comprendere io ripeto mi sento solamente di dire che abbia un ruolo terzo un ruolo diciamo di una terza parte ecco tutto questo e poi non penso che sia room perché questa è una cosa che forse non vi avevo mai detto ma per il semplice fatto che nell'organizzazione room secondo me deve essere un uomo perché tutti i nomi di alcolici sono legati agli uomini room gin vodka tequila anche eccetera invece i nomi di donna sono sempre legati a barbon appunto invece i nomi di donna sono sempre legati a vini aromatizzati chianti belmuth eccetera eccetera quindi secondo me nella mia ottica room deve essere un uomo e quindi non può essere lei non può essere lei a mio avviso ok il video qua è finito per il file per quanto riguarda diciamo le prime anticipazioni del file 1052 nel prossimo video vi posto voi dovrete cercherò qua nei commenti perché voi mi farete sicuramente delle domande io raccoglierò le 10 domande 10 domande che verranno fatte che sceglierò io che verranno fatte sotto questo video o ma anche diciamo nel video precedente nel video che ho caricato ieri e vi risponderò personalmente sarà un botta risposta un domanda risposta quindi pubblicate alcune domande che a cui volete che io risponda io risponderò in modo più dettagliato nel prossimo video piuttosto che con qualche parolina nei commenti buona serata ancora a tutti buona quarantena e ci vediamo presto con il prossimo video di Detective con il prossimo video